Amici di Anime Click, ben ritrovati qui sul nostro canale Twitch e ovviamente anche in diretta sul nostro sito, Colazione Nerd, come tutti i giovedì, abbiamo un ospite e oggi sono davvero contento, ho aspettato un po' prima di chiamarla perché giustamente ha una vita, un lavoro impegnativo, ma ha anche un ruolo di mamma abbastanza, penso ancora più impegnativo, ma ora è con noi ed è Elena Zanzi appunto che è venuta a trovarci. Ciao Elena! Ciao a tutti! Elena, tu sei editor, oggi parleremo un po' di questo lavoro che fondamentalmente in realtà è un po' sconosciuto e più, perché abbiamo visto tanti dietro le quinte del mondo anime e manga, traduttori, adattatori, chi più ne ha più ne metta, ma il lavoro dell'editor, pur avendo avuto voi più volte, perché tu sei venuta, è venuta anche Francesca, sempre di Panini, a raccontarci un po' quelle che sono dietro le quinte del manga, però fondamentalmente buona parte delle persone non sanno esattamente in cosa consiste il vostro lavoro, ce lo puoi dire per sommi capi, anzi se così mi fai un recap pure a me che io sono vecchio e me lo scordo? Il lavoro dell'editor è quello di supervisionare un albo, questo significa, la parte principale del lavoro è lavorare sulla traduzione che viene passata dal traduttore per darle una vesta italiana definitiva, cosa significa questo? Se ci sono giochi di parole da sciogliere, se ci sono situazioni da rendere in un certo modo in italiano, per esempio caratterizzare la parlata di personaggi, faccio un esempio, Mephisto in Blue Exorcist, siccome parla vagamente retro, allora per renderlo in italiano magari invece di dire bene li faccio dire ottimamente e cose del genere, quindi questo tipo di scelte. E poi anche quando ci sono case in cui il traduttore non sa come comportarsi mi chiede una mano, per esempio mi ricordo una volta, tra l'altro sempre in Blue Exorcist, c'era una frase in cui mi disse che non sapeva come interpretarla perché appunto poteva essere passato, presente e futuro, questo l'avevo detto l'altra volta, io ho trovato una frase senza verbo, insomma il mio compito è dare appunto la vesta italiana definitiva affrontando tutte queste situazioni. E' un po' il lavoro dell'adattatore quello degli anime, no? Cioè tu adatti il testo scritto di un traduttore in italiano, in poche parole, renderlo fruibile a chi legge nella lingua in cui arriva. Quindi diciamo che non è solo una questione di renderlo fruibile, non è una questione solo stilistica, è anche una questione legata al fatto che siccome la lingua giapponese ha una struttura grammaticale molto diversa della nostra, noi siamo abituati come occidentali a una lingua diciamo comoda, in cui basta dire farò e so già che c'è un io, c'è un futuro, una singola parola ci dà tantissime informazioni. In giapponese spesso non c'è singolare plurale, non c'è maschile femminile, quindi tradurre è interpretare. Bisogna continuamente stare attenti a quello che si vede, cioè al contenuto delle tavole. E' diversa da una situazione per esempio di traduzione dall'inglese, che è comunque una lingua un po' ponte tra l'italiano e il giapponese, perché anche l'inglese ha certe cose che mancano rispetto all'italiano, che è una lingua molto analitica, no? Certo. E quindi dovendo interpretare il mio lavoro, un lavoro di squadra col traduttore, perché dove non arriva lui magari arrivo io e viceversa. Ci sono casi in cui veramente, per esempio in Jujutsu Kaisen, io e la traduttrice a volte ci sono, c'è almeno due frasi a volume in cui ci ragioniamo per una, due, tre ore per capire come interpretarle correttamente. Perché a volte, anzi spesso, ne di Shonen Manga cosa succede? Che vengono dette delle frasi volutamente ambigue in giapponese, per poi essere sciolte nel loro significato, questo si vede molto in Bleach per esempio, anche 20-30 volumi dopo. Quindi bisogna lavorare bene sulla traduzione per renderla comprensibile, ma anche con quel giusto livello di ambiguità in maniera tale che quando si ripresenterà la frase nel suo contesto corretto, la traduzione sarà adeguata. Io mi ricordo che, sempre in Bleach, per fare un esempio, Hiyori Sarugaki, al capitano Iraco, lo insultava dicendogli una parola che in giapponese letteralmente significa pelato, no? Però è anche pelato. E quindi noi ci siamo dette, non possiamo mettere una traduzione letterale, alla fine abbiamo messo testa d'uovo, che poi è andato bene perché, tipo, 20 volumi dopo, lei spiega che non gli dice testa d'uovo perché è pelato, ma perché è uno zuccone, per altri motivi. Una specie di testa di legno, voleva dire che era duro. Sì, sì, proprio di coccio, e insomma, quindi mi sono fatto un'altra pacca sulla spalla perché anche lì ci ho riflettuto quelle due o tre orette per capire come adattare. Quindi questo è sostanzialmente il lavoro dell'editor, per cui bisogna, per chi lo vuole fare, visto che ogni tanto ci sono delle persone che mi chiedono, bisogna sia saper scrivere molto bene, ma anche sapersi destreggiare bene nei problemi che può dare un testo nel momento in cui lo rendi in italiano, nel capire come sciogliere le frasi in maniera tale da dare una sensazione di scorrevolezza, ma anche di comprensibilità. E bisogna stare attenti nel rileggere la traduzione per capire dove ci può essere un errore, dove ci possono essere dei problemi di interpretazione, perché non è immediatamente evidente. Perché come dicevo, siccome il giapponese è una lingua che consente magari tante interpretazioni, bisogna interpretare continuamente, bisogna stare attenti a cosa c'è nelle vignette, nelle tavole, ricordarsi cosa è successo uno, due, tre, dieci volumi prima. Poi tra l'altro possono esserci degli errori anche di interpretazione del traduttore, che per esempio può sbagliarsi magari con dei termini, o anche con delle situazioni, o addirittura con delle festività, cioè il Giappone è pieno di situazioni, cioè per esempio il nome di un vestito, o il nome di qualcosa, cioè questo è un errore classico che mi è capitato di vedere varie volte è il sesso del personaggio. E' pure quello. Maschio o femmina? Sembra semplice, ma non lo è con i giapponesi. Il giapponesi magari è disegnato come una femmina, però è un maschio, oppure ancora una cosa che nessuno si immaginerebbe, magari l'autore stesso non ha ancora deciso se è maschio o femmina, e in ogni volume lo disegna in un modo o nell'altro perché propende per una parte o per l'altra, ma non si decide mai, mi è successo. E lì bisogna essere volutamente ambigui. Quanto ti devi preparare anche su un'opera? Perché magari ci stanno anche degli studi dietro su opere che magari sono piene di folklore giapponese o comunque parlano di un determinato argomento. E' un'opera, lì è tradotta da Massimo Sumare che è un traduttore, non è solo traduttore. Il nostro amico è venuto qua tante volte, anzi... Il nostro amico è di grandissima cultura storico, insegnante, letterato, veramente un personaggio di cultura enorme che riesce a destreggiarsi in queste continue citazioni di autori della letteratura giapponese e non solo. Quindi sì, io mi ricordo anche Air Gear, dove l'autore continuamente prendeva in prestito concetti della fisica, dal sovrannaturale, dall'esoterismo, da qualsiasi cosa, solo che li prendeva e li interpretava a suo modo. Noi continuamente ci chiedevamo se mettere i termini corretti oppure magari quelli che metteva lui in una certa maniera, perché è anche lì il problema. Il fatto di prendere in prestito termini scientifici, usarli in un certo contesto, tradurli, ti poni tantissime questioni. Tipo Elena, quello che chiede quasi sempre le persone, quando è che si lascia il termine giapponese, ad esempio, e quando invece si decide di tradurlo in italiano? Ora, per esempio, i tempi sono cambiati, una volta si traduceva molto di più il termine giapponese, ora per esempio Shinigami, parlando proprio di Bleach, si tende a lasciare Shinigami. Una volta magari si traduceva? Secondo me, questa è una scelta che, innanzitutto, non credo che possa esserci una regola scolpita nella pietra per regolare questa scelta, dipende dall'opera. Cioè, ci sono opere in cui magari ha più senso tradurre, secondo me, perché ovviamente ognuno ha le sue regole, ogni editor ha le sue preferenze, le sue convinzioni. Per me ha senso, innanzitutto, che l'opera sia fruibile. Ossia, se io lasciassi tutti i termini dei colpi in giapponese e tante altre cose, i balloon sarebbero un insieme di termini giapponesi e non sarebbe più leggibile l'opera, innanzitutto. In secondo luogo, spesso i nomi dei colpi sono perfettamente traducibili, hanno un senso in italiano. Quindi, andare a lasciare in giapponese qualcosa che in italiano ha senso, significa peggiorare l'esperienza della lettura per un lettore. Quindi, io credo che abbia senso lasciare il termine giapponese quando o è entrato nell'orecchio italiano. Quindi, quel termine ti suscita qualcosa. Non è semplicemente un termine esotico, ma in te è collegato a un significato, per esempio Shinigami. Oppure, quando un'opera, per esempio come Bleach, è carica di cultura giapponese, cioè si vede che strizza l'occhio a tanti elementi della storia antica giapponese. E quindi, allora, lasciare il termine giapponese è una scelta collegata all'atmosfera del manga. Però, anche lì, bisogna sempre stare attenti al fatto che non peggiori l'esperienza di lettura. In Bleach, il nome della tecnica è sempre accompagnato dalla sua traduzione. E i dialoghi non sono così carichi di termini, di colpi, da pregiudicare l'esperienza di lettura. Mentre, invece, in Naruto è tutto un continuo di tecniche. Cioè, lì, il termine giapponese, secondo me, sarebbe stato, cioè, per la qualità dei dialoghi, sarebbe stato veramente deleterio. Questa è la mia opinione. Però, ovviamente, è una cosa che si valuta di manga in manga. Ho anche Oku, che è ambientato nel Giappone, nell'epoca degli shogun. Lì abbiamo lasciato vari termini giapponesi, ma anche lì, in ogni ballon, ce n'è sempre uno, due. Non crea difficoltà. E poi, secondo me, c'è anche la questione dei neologismi. E anche quello. Per me, a maggior ragione, va tradotto. Perché se è un neologismo in giapponese, deve esserlo anche in italiano. Se è una cosa che ha un significato, tu, lettore, devi poter assaporare questo significato. E non leggere qualcosa che per te ha un sapore esotico tanto quanto un altro termine. Questa, quindi, è la mia opinione. Però, ovviamente, mi è capitato, nel corso della mia esperienza di editor, di cambiare parecchie volte opinioni a seconda dell'opera. Quello che ho imparato dal mio mestiere, una delle cose che ho imparato, è essere flessibile. E a capire che nell'arte, nei lavori di tipo artistico, intellettuale, non ci sono guide, ma c'è buon senso. E soprattutto si può imparare tanto da ogni traduttore, perché anche ogni traduttore ha le sue convinzioni. Prendiamo, per esempio, la questione del fatto che, in giapponese, la ripetizione ha un valore estetico. Può capitare, per esempio, prendiamo uno shoujo manga, può capitare che una protagonista per ben sei pagine dica sono felice, sono felice, sono molto felice, sono felicissima. E per loro questa ripetizione ha un valore enorme, e intensifica l'emozione. Per noi è qualcosa da eliminare, da sostituire con dei sinonimi, perché in italiano si intensifica, cioè si crea una scala di intensità, utilizzando parole diverse, come sono contento, sono felice, sono al settimo cielo, sono estasiato, tocco il cielo con un dito. Noi creiamo così l'intensità. Però mi è capitato di parlare con traduttori, che invece ritenevano che andassero tradotte queste ripetizioni così come erano. Per cui anche dietro le quinte c'è tutto un lavoro di discussione, diciamo sulla poetica della traduzione e dell'adattamento. Ed è un lavoro continuo, perché a seconda dell'opera si impara... Poi mi immagino nei tempi velocissimi di una traduzione manga, perché mi hanno detto traduttori che praticamente in una settimana uno deve tradurre un volumetto. Sì, quelli diciamo sono i tempi... Sì, appunto, quindi questa cosa deve essere fatta anche... è un mestiere, quindi ha una quantitativo di tempo limitato. Infatti ieri parlavo proprio con dei miei allievi di sceneggiatura, c'era un mio allievo che si rammaricava del fatto di aver dovuto fare una sceneggiatura, uno storyboard di quattro pagine, mentre doveva anche fare l'esame a scuola e tutto. E gli ho detto che questa è la realtà del mestiere. Capita, devi sempre fare le cose in quel tempo. E quindi è importante anche imparare a destreggiarsi in questi paletti, ma questa non è una realtà che riguarda solo il lavoro editoriale, è una realtà a tutti i livelli. Certo, quello sicuramente. Stella ti fa una domanda, dice che percorsi di studio bisogna fare per diventare un editor? Lingua e linguistica, dice? Di sicuro il percorso di studi che ti accompagna a fare l'editor è un percorso che ti permetta di fare molta pratica a livello di scrittura, perché la conoscenza dell'italiano deve essere perfetta, ma perfetta non solo in senso grammaticale, ma proprio nel senso del gusto, dello stile, della capacità di scrivere in tanti modi diversi, perché i personaggi parlano in modo diverso. Anche a livello di lunghezza delle frasi, quindi tutte queste sfumature un editor le deve cogliere per poter poi trasportare un'opera dalla lingua originale all'italiano nella maniera più fedele possibile all'originale, non nel senso letterale, ma nel senso appunto dell'esperienza di lettura. Sicuramente conoscere le lingue è importante, ma anche diverse lingue, perché ogni lingua ha una struttura grammaticale e questa cosa apre la mente, ti aiuta a spaziare e a capire i vari problemi che ci possono essere nel corso dell'adattamento. Cioè l'inglese non pone gli stessi problemi del giapponese, so che nel momento in cui mi accosto magari a un fumetto in lingua inglese devo stare attenta a certe cose, a un fumetto in giapponese devo stare attenta ad altre cose, ci sono anche i gusti culturali nel comporre le trame. Quindi un editor diciamo che sicuramente deve avere delle competenze linguistiche e ovviamente conoscenza, ottima conoscenza dei programmi di videoscrittura, ma questo lo dico giusto perché va detto. Quindi è questo, scrivere, leggere, leggere anche tanto perché, ma proprio per una questione di vastità di vocabolario, di stile, è una buona conoscenza delle lingue per appunto dei problemi che si possono riscontrare nella traduzione. Mi ricordo all'università, ho fatto degli esami di linguistiche comparate dove appunto si affrontavano le problematiche del tradurre in maniera letterale, meno letterale e via dicendo. Questo diciamo, fino a livello liceo, è veramente poco approfondito. Quando facevo i miei studi classici e traducevo del latino e del greco, l'insegnante non insegnava come sciogliere bene le frasi in italiano, che invece è la competenza dell'editor. Quanto bisogna sapere il giapponese? Cioè bisogna saperlo bene? Non è un requisito indispensabile nel senso che il compito della traduzione è affidato al traduttore. Tu come editor, quando ravvisi un problema, ragioni assieme al traduttore. Però non conoscere proprio niente di giapponese è un grosso malus perché se non sai tutte le problematiche che può dare la lingua, non puoi neanche coglierle nel momento in cui fai il tuo lavoro. Cioè se io non so che ci può essere un problema di tempi verbali, se non so che ci può essere un problema di traslitterazione, che è l'alfabeto katakana, faccio un esempio, che una parola inglese può avere tante traslitterazioni diverse, che il nome di un personaggio, la traslitterazione definitiva, lo può dare solamente l'autore perché lui può scriverlo in katakana, ma poi scriverlo in caratteri occidentali in dieci modi diversi. Tutte queste problematiche, se non si conoscono, ovviamente diventa molto più difficile fare il proprio lavoro, quindi almeno un'infarinatura direi che è necessaria. Dopodiché, insomma, il percorso di studi può sicuramente variare. Quello che importa in realtà nel mio mestiere sono le competenze. Non importa come le hai acquisite, se con una facoltà di lettere, con una facoltà di lingue, filotofia, cioè l'importante è che il risultato sia quello che serve a questo lavoro. Cioè, lo dico perché magari una persona arriva da un percorso un po' atipico, però magari si è fatto la gavetta, ha lavorato cinque anni in un giornale, leggendo fumetti tutte le notti, magari questo lo rende adatto perché c'è anche una questione di talento. Ci sono tanti editor giovani che sono cresciuti a pane e fumetti e giustamente facendo un percorso di studi linguistico anche, che però poi dopo hanno imparato un po' sul campo. Questo è un lavoro che ho visto che molti di voi, ormai parecchio esperti, avete soprattutto sviluppato con l'esperienza, più che con un curriculum quando siete arrivati. Anche quello era importante. Ma anche perché, essendo un lavoro molto, diciamo, di nicchia, nel senso molto specifico, non esistono percorsi di studi mirati che ti preparino a questo. Anche il fatto che è un lavoro, esempio, se compri un classico della Burr con la traduzione a fianco, quel tipo di traduzione non è la traduzione che troveresti in un fumetto, perché un fumetto deve essere piacevole da leggere. La questione della piacevolezza interferisce con la traduzione in senso classico, che magari vorrebbe il vocabolo esattamente più appropriato per un determinato termine in lingua originale. Quindi anche queste scelte è difficile impararle in un contesto accademico, a meno che quel corso non fosse proprio mirato a una traduzione in senso commerciale, perché anche di questo bisogna tenere conto. Ora, per esempio, c'è pure questo fenomeno in cui il manga ormai è diventato mainstream, molte più persone lo leggono, come tutte le abitudini tali che sono diventati tutti esperti di traduzione e di editor. Vi arriva magari qualcuno che vi dice no, ma perché non avete tradotto così? Sostanzialmente magari riferendosi a scan amatoriali, per esempio, però con diversi traduttori che ci si inalberano pure parecchio. Ma io mi ricordo, mi ricorderò sempre, che per Black Butler quando uscì il numero uno ricevetti tantissime mail. Fondamentalmente si dividevano in due categorie. La prima era i nomi dei personaggi, che noi abbiamo preso dalle guide ufficiali. Quindi sono nomi scelti dall'autore, dalla casa editrice, non da noi, le trasliterazioni. Mi ricordo che c'erano delle persone che si lamentavano che non erano quelli che trovavano su internet, perché su internet si erano diffuse delle trasliterazioni fatte senza guardare la guida ufficiale. E poi la seconda obiezione che ho ricevuto è stata che non era possibile che un determinato termine nel volume uno venisse tradotto videogame perché eravamo in un contesto di Inghilterra vittoriana quindi avevamo fatto un errore clamoroso insulti vari. Io quella volta ho mandato una scansione di pagina 129 mi sembra dove si vedeva il maggior domo che usava un cellulare. Cioè eravamo nell'Inghilterra vittoriana però in un contesto in cui c'era un cellulare. nei soliti ibridi che i giapponesi amano tanto poi se si nota con il tempo nel manga tutti questi elementi di cultura moderna sono stati eliminati e quindi si è tornati in un'atmosfera molto vittoriana diciamo senza queste contaminazioni. Però quella volta ho ricevuto anche queste osservazioni di errori di traduzione che in realtà non lo erano. Essendo comunque un manga una storia che si rifaceva comunque a un universo alternativo in cui cellulari e videogame c'erano assolutamente sì. Ma poi la critica però non aveva notato appunto che cento pagine dopo c'era il cellulare quindi insomma il studio e videogame secondo me. Ma comunque fa parte secondo me essendo che i fumetti sono qualcosa che va a toccare le passioni delle persone un po' come il calcio si diventa anche un po' tifosi per cui si vuole che la propria opera venga tradotta al meglio si prova anche piacere nell'intervenire nel dire la propria e quindi anche queste osservazioni finché sono osservazioni condotte con toni appropriati non le ritengo cioè mi fanno tenerezza perché mi fa piacere che delle persone amino il proprio fumetto al punto magari arriva anche qualche consiglio interessante qualche consiglio giusto mi è capitato a volte di ricevere delle osservazioni purtroppo non mi ricordo più c'era un'osservazione che mi era arrivata da un lettore su una frase di Iwach in Bleach e gli ho detto hai ragione e infatti poi ho fatto correggere c'era c'era una frase che come l'aveva detto lui e ho pensato cavoli ha ragione allora in quel momento sono andata a far correggere la frase poi quando è uscita la deluxe non mi ricordo però purtroppo qual era ma il vantaggio che ci siano così tante persone è sicuramente anche la possibilità di interagire è il mio mestiere in cui si impara tanto ma anche solo dalla reazione dei lettori al modo in cui hai lavorato su un'opera perché e qui faccio un esempio con i romanzi essendo che il giapponese è appunto una lingua grammaticalmente molto diversa dall'italiano se noi prendessimo dieci autori dieci traduttori ugualmente bravi li mettessimo tutti a tradurre lo stesso romanzo otterremmo dieci romanzi diversi perché l'atteggiamento nei confronti della lingua le scelte anche solo la lunghezza delle frasi sicuramente sarebbero diverse ci sono traduttori che fanno frasi molto più lunghe a parità di tesso giapponese traduttori che fanno frasi molto più corte e quindi anche lavorando sui romanzi ho imparato moltissimo è un universo veramente Elena una domanda che ci viene sempre spontanea da noi newbie di questo mondo gli onorifici che in Giappone sono fondamentati secondo te come vanno tradotti? cioè penso che sia una cosa un po' complicata anche da tradurre in italiano la mia scelta io se posso la mia scelta è sempre di tentare di tradurre in italiano cioè di dare un senso senza tenermi il termine giapponese o l'onorifico perché ritengo che questo intanto accresca l'esperienza di lettura non sempre cioè a volte io ho tenuto gli onorifici però dico in generale la mia tendenza è quella in secondo luogo è un fenomeno che in linguistica si studia cioè quando si traduce una lingua straniera e si trova ci si sforza di tradurla anche traducendo quelle cose che non fanno parte della propria cultura si arricchisce la propria lingua perché nello sforzo di creare un modo per tradurre quella cultura la lingua assorbe elementi nuovi se si lasciano i termini originali a volte non dico sempre però questo provoca un depauperamento della lingua perché ci si limita ad assorbire termini stranieri senza fare lo sforzo di creare qualcosa di nuovo quindi dove l'onorifico sembra indispensabile magari in manga in cui si respira una forte cultura giapponese o cose del genere allora viene lasciato ma dove è possibile viene tradotto magari con tante sfumature poi bisogna anche considerare che ci sono autori molto meticolosi che danno estremamente importanza all'onorifico magari facendo dei giochi per cui il fatto di aver usato un onorifico piuttosto che un altro ha un significato nella storia viene fuori tantissimi come al solito molto tempo dopo e ci sono autori invece che magari lo usano semplicemente per fare atmosfera e loro anche in quel caso la prima volta che ti trovi a lavorare con un autore devi capire un po' con che tipo di autore hai a che fare perché io so per esempio secondo me tra le cose più difficili da tradurre nel senso di stare molto attenti ci sono gli shonen manga perché ci sono autori che veramente hanno un grado di meticolosità nello scegliere nomi per esempio c'era sempre in Blitz perché essendo che ha 74 volumi l'autore ha fatto di tutto sempre in Blitz c'era un personaggio che chiamava un altro personaggio solo col suo nome mai col cognome e questo aveva un significato che poi si scopre più avanti se per caso a volte capita in italiano che in giapponese si capisce benissimo chi parla per una questione di uso di tipi di verbi di suffissi in italiano no allora devi farlo capire in qualche modo a volte aggiungi il nome e cose del genere però il problema è che con questo tipo di strategie magari mandi rovini la sorpresa di qualche volume dopo sì e quindi devi stare attento anche a questo però questo orientarsi in questo mondo in queste scelte per farlo bisogna cercare di capire l'autore perché ci sono ogni autore ha il suo stile una volta che più o meno l'hai capito non dico che andrà sempre tutta la perfezione però hai un grosso modo la tua maniera di orientarti avete mai modo di parlare con l'editore originale giapponese che magari vi può dare qualche consiglio ma in genere noi lavoriamo per conto nostro se ci sono delle domande importanti sì le abbiamo fatte e a volte bisogna tenere in considerazione che non ci sono le risposte nel senso che vuoi sapere se sei un personaggio ma l'autore non l'ha ancora scelto e lì insomma oppure anche vuoi sapere la tradizionazione di un nome però anche lì l'autore non l'ha ancora scelto e lì a volte ci sono queste realtà comunque in genere si va a fare domande solo proprio quando i traduttori sono molto bravi per cui in realtà veramente sono pochissimi i casi in cui dobbiamo andare a fare una domanda alla casa ai giapponesi Elena quali sono stati i titoli che più ti hanno dato difficoltà quali sono stati quelli che proprio adesso ti ricordi a mappa quanto è stato difficile adattare questo titolo allora il titolo che in assoluto mi ha dato più difficoltà è stato Skate Dance perché è un manga 192 pagine a volume di giochi di parole tra l'altro aspettate aspettate un attimo e andate a tornare qualche chicca no effettivamente il lavoro di editor in realtà è molto molto complicato come state capendo benissimo da questa intervista Skate Dance è la croce della disperazione abbiamo anche un fan un super fan di Skate Dance la quantità di testo della tipica pagina di Skate Dance è questa una pagina con poco testo in realtà si arriva anche a situazioni diciamo peggiori di così e immaginatevi che tutto questo testo sono giochi di parole cose che magari funzionano benissimo in giapponese elementi della cultura giapponese e devo dire che la ricordo come una delle esperienze più stancanti però anche più piacevoli stimolanti sì perché dopo aver fatto 32 volumi i giochi di parole non mi spaventano più inoltre era veramente un manga bellissimo e ricordo che a me il traduttore faceva molto ridere ancora adesso quando riparliamo di questa esperienza noi ridiamo citando termini frasi del manga che ci sono proprio rimaste dentro perché a furia di lavorarci di scegliere come renderle e di ridere perché era bellissimo quel manga ci è proprio rimasto nel cuore comunque sì è stata l'esperienza più complessa perché combinava la lunghezza del lavoro nel senso della quantità di testo con proprio la difficoltà dell'adattamento ricordo ancora quella volta che il traduttore mi scrisse per un episodio in particolare dicendo io non ce l'ho fatta ti metto la traduzione letterale fai tu era praticamente una situazione in cui i personaggi scrivevano su un cartellone però scrivevano in kanji solo che continuavano a sbagliare i tratti per cui quando sbagli un singolo tratto di un kanji in giapponese cambi il significato del kanji completamente non è come in italiano che magari sbagli una lettera però si capisce lo stesso e quindi quella volta io ho dovuto erano tipo 20 pagine di errori di questo genere tutto questo ricordiamolo sempre in tempistiche strettissime voi in quanto tempo dovete appunto portare fuori una traduzione di un manga la cifra è quella di una settimana no? in realtà una settimana per un manga medio non bastava una settimana cioè se io che traduttore ci mettevamo sempre tantissimo ma anche per Bakuman in Bakuman il problema non erano i giochi di parole ma era proprio solo la quantità di testo perché era lunghissimo e anche lì era faticoso a un certo punto Bakuman mi ricordo è diventato bimestrale io e la traduttrice abbiamo tirato un sospiro di sollievo questo per quelli che chiedono i manga ogni mese però effettivamente è un lavoro anche perché voi non lavorate a un solo manga tu in questo momento a quanti di tuoi lavori a quanti di tuoi lavori perché un fan ha scritto sulla pagina facebook di Planet Manga chiedendo che tornasse mensile e io ero agghiacciata da questa richiesta che poi lui non poteva saperlo però se noi avessimo esaurito il suo grande sogno di vederlo mensile la qualità sarebbe peggiorata perché bimestrale consentiva di lavorare con più agio e di con più cura no? certo mentre il volume è molto lungo e lo vuoi mensile però devi anche considerare che mi darai meno tempo per lavorarci bene a quanti titoli stai lavorando adesso giusto per capire quant'è la tua molle di lavoro adesso mi sembra circa una decina al mese mi sembra poi poi là insegno sceneggiatura magari scrivo qualcosa quindi poi inserisco anche altre cose che faccio il periodo peggiore quanti titoli hai avuto periodi peggiori di più di 10 titoli sì una volta sono arrivata mi sembra 15 17 è abbastanza pesante ma in realtà dipende dipende tutto dal titolo perché ci sono titoli leggeri e cose molto impegnative esempio di cosa molto impegnativa aspettate un attimo che ce l'ho qui tazam eh quello volevo arrivare ecco questa è una cosa molto impegnativa oppure il fanbook i due fanbook di Assassination Classroom quando ti capitano quei tipi di lavori ho ancora il pupazzetto che mi ha dato la Marchioni lo vedo lo vedo sì perché poi ho tenuto i fanbook è trovare dove sono le citazioni perché i fanbook sono pieni di pagine prese dal manga ma noi non abbiamo i riferimenti quindi per trovarle mettere la stessa traduzione che c'era nel manga è un lavoro che va fatto manualmente e nel fanbook questi casi sono centinaia quindi anche solo per andare a recuperare tutte le citazioni ci vuole tempo e poi per andare a tradurre quello che viene scritto nelle pagine di fanbook con le stesse parole usate per il fumetto è un lavoro monumentale infatti per il fanbook di Assassination Classroom io mi ricordo che non riuscivo a farne più di 6-10 pagine al giorno perché poi mi si fondeva te lo sognavi di notte Koro Sensei io adoro editare i romanzi solo che anche lì se posso con il traduttore io non vado oltre le 10 pagine al giorno perché richiedono intanto non ci sono ovviamente le immagini quindi non ti aiuta a comprendere la situazione e vi ricordo il giapponese è una lingua ambigua per cui quando hai un romanzo è ancora peggio quando hai un romanzo si sforzano di essere più dettagliati di colmare l'assenza delle immagini con un aumento delle descrizioni ma non basta a colmare tutta l'ambiguità che i giapponesi danno per scontata e che a noi dà fastidio e che comunque non possiamo avere nella nostra lingua qui racconto un aneddoto gustoso un traduttore che conosco in Giappone che vive proprio in Giappone da anni con la sua famiglia italiano ancora non sopporta dopo anni il fatto che i giapponesi siano in grado di parlare per ore di quello che hanno fatto il giorno prima senza che si capisca con quante persone erano se uno o di più con un conoscente o con una conoscente cioè lui questa ambiguità non la tollera perché noi italiani vogliamo dati informazioni no questo è veramente difficile poi tra l'altro spieghi una situazione che soprattutto ai fan che chiedono sempre light novel e romanzi non è ben presente quanto è difficile appunto e quanto ci vuole per tradurre sono lunghissimi non è perché quante torniamo qui no questo questo romanzo alla fine in italiano sono un 291 pagine però non so non è come fare 291 pagine di fumetto è fuori scala anche perché i romanzi in giapponese sono scritti con una quantità di ripetizioni e con uno stile le light novel manga intendo quelle tratte dai manga che richiedono un certo intervento in italiano per cui tutte queste cose richiedono veramente tanto tanto tempo per fare un lavoro di qualità e quindi questo moltiplica l'impegno a dismisura si fa volentieri ma ovviamente c'è sempre la questione del tempo che hai a disposizione esatto e questo va spiegato Elena tu però sei anche sceneggiatrice tra l'altro di un fumetto che è andato e che ancora sotto legge da Di Panini che è Somnia come cambi un po' come switchi da editor a fare sceneggiatrice appunto a fare un lavoro che è completamente diverso secondo me non è diverso nel senso che io parto da una passione primigenia che è quella per la scrittura quindi quando qualcosa coinvolge la scrittura che si tratti di editare che si tratti di scrivere o anche di correggere semplicemente un testo per me fa tutto parte di questa grande categoria devo dire che visto che tutto il tempo che passo a editare fumetti lo passo anche a riflettere sulle scelte narrative dei vari autori è anche un campo di studi molto interessante per me come sceneggiatore per arricchire la mia esperienza anche di insegnante perché a furia di vedere vari stili poi li posso spiegare agli allievi posso fargli degli esempi quindi non non sento non sento questa forte questa transizione certo è che come sceneggiatore mentre come editor non ho problemi a lavorare magari 12 ore al giorno non ho anche una figlia però comunque non ho problemi a lavorare per lungo tempo su un editing il lavoro di sceneggiatore mi occupa mentalmente è molto più mi è più faticoso a livello personale cioè sono ognuno ha le sue esperienze perché si tratta non solo di scrivere una storia per me ma spesso di scrivere una storia cercando di comunicare un messaggio che io ho in mente e questo mi mi costa molta fatica diciamo è più faticoso che editare skate dance per esempio mappa però è anche soddisfacente quindi come sceneggiatore non credo di essere quel tipo di sceneggiatore che lavorerebbe in esclusiva come sceneggiatore mi piace scrivere le storie che secondo me è importante per me scrivere non scriverei storie a prescindere semplicemente magari per divertire o per intrattenere cioè per me quando scrivo una storia significa che voglio proprio scrivere qualcosa di importante Elena stiamo vivendo un momento veramente importante per il fumetto e il fumetto manga in Italia perché come dicevamo dietro le quinte ormai vabbè stanno scendo articoli Repubblica la stampa i manga vendono tantissimo può essere un momento appunto di rilancio anche del fumetto italiano e quindi anche per voi sceneggiatori è un momento stuzzicante per proporre nuovi progetti secondo me l'intera epoca è un grande momento di rilancio del fumetto italiano perché gli strumenti che esistono oltre al fatto che ormai lo stile manga ha contaminato anche gli autori italiani quindi ci sono molti autori che non dico che disegnano manga ma tanti anche magari famosi strizzano l'occhio lo stile manga e via dicendo ma in generale oggi un autore ha degli strumenti di visibilità enormi rispetto al passato o anche dei modi per contattare case editrici non solo italiane ma anche all'estero molto più agevoli rispetto al passato non c'è più necessità di andare fisicamente a una fiera c'è facebook c'è instagram twitter tutti gli altri social che sono nati nel frattempo ci sono tutte le case editrici che si raccontano sulle loro pagine internet sulle loro siti internet e spiegano come inviare submission quindi è un momento secondo me molto fortunato per gli autori per proporsi perché anche hanno molti modi di contattare le case editrici sicuramente non è più come una volta che si doveva andare magari alla fiera a lasciare la propria idea allo stand panini insomma no infatti ormai c'è una visibilità presso una case editrice ancora prima di proporsi perché magari con i social si è molto bravi e allora si è ottenuto visibilità in quel modo certo è che ogni cosa al rovescio della magaglia nel senso che si moltiplicano gli autori in rete ma questo fa bene all'arte e al fumetto perché c'è la possibilità di vedere tante esperienze di fumetto diverse e anche di conoscerle per gli autori quindi credo che questa sia un'epoca di trasformazione ma anche di grandi possibilità Elena tu sei anche una grande fan di fumetti di manga come vivi il fatto cioè ancora completando risulta segui ancora tutti anche soprattutto dei manga che fai magari ti piace prendere dei gadget o delle figure o qualcosa di simile perché noi qui cerchiamo anche di capire la persona appunto questa è l'ultima cosa che mi siamo comprata tipo la terza settimana cosa questa è Moana di Maui sì Maui di Moana sì e inoltre oggi se suona il campanello dovrebbero arrivarmi le tazze del Mikoti con Detective Culetto che tu stai editando anche questo per la linea infanzia quello è giapponese è un fumetto giapponese sì sono dei libri illustrati rivolti ai bambini quindi diciamo metà elementari sei più però devo dire siccome i giapponesi hanno un modo di concepire la letteratura per l'infanzia diversa della nostra hanno un modo di dettagliare i caratteri i personaggi più particolareggiato perché i giapponesi insistono molto sulla psicologia dei personaggi e meno non oserei definirla patinata quella occidentale però è meno pulita è più ambigua piena di sfumature e allora io sono una grande fan di Detective Culetto soprattutto adoro il personaggio vediamo se riesco a mostrarvelo certo che già Detective Culetto con una faccia da culo in prima pagina questo è il commissario Maltese il mio personaggio preferito perché è piccolissimo però è un commissario super strapotente convinto di essere il poliziato migliore del mondo è meraviglioso è veramente una serie di libri illustrati piena di personaggi stupendi divertenti ma proprio vivi vividi e non ho potuto non comprarne i gadget purtroppo perché il mio problema è che quando lavori su qualcosa in profondità finisci per amarla io purtroppo lavoro su tante cose e quindi devo trattenermi per cui cerco di evitare di comprare troppi gadget perché se no casa mia straborderebbe e poi spesso magari capita che magari ne regalo ai miei allievi o ad amici perché a un certo punto arriva un momento in cui lo spazio è quello che è e ci credo con tutte le cose che hai fatto assolutamente e poi infatti dice Stella che bello essere immersi dai libri e dai gadget ragazzi Elena può stare con altri dieci minuti se avete delle domande fatela ora o mai più perché poverina come ha detto è piena di lavoro e a maggior ragione la dobbiamo lasciare è stata carinissima stare con noi se volete fare delle domande fatele ora Elena tu stai lavorando a Jujutsu Kaisen ritorniamo al discorso Anami ti aspettavi questo successo incredibile ieri abbiamo saputo che in Giappone ha toccato le 45 milioni di copie in tutto il mondo me lo aspettavo ancora prima che mi venisse assegnato lo conoscevo e sentivo che avrebbe avuto un successo enorme come sensazione c'era una sensazione che mi dava lo stile dell'autore che è molto pop è molto bello cioè strizza l'orecchio all'antico al moderno allo stesso tempo inoltre la storia è una storia affascinante perché ci sono personaggi che hanno motivazioni molto semplici personaggi che hanno motivazioni complesse però tutti i personaggi hanno qualcosa da raccontare di sé e ti rimangono proprio impressi le storie come dire le storie che mi rimangono impressi sono quelle storie in cui a un certo punto mi dimentico che è una storia e comincio a pensare ai personaggi come se fossero veri e devo dire che Jujutsu Kaisen mi fa questo effetto perché non è è un fumetto in cui il protagonista per esempio non è che ha questa ossessione di volere magari proteggere tutti oppure ha un obiettivo particolarmente appariscente suo nonno è morto dicendogli io muoio da solo tu mi raccomando devi avere tanti amici quando morirai attorno a te che è una cosa molto semplice ma anche una cosa molto vera il protagonista unisce questa questa volontà del nonno a una cosa che gli accade nel volume 1 e sviluppa una sua propria etica di vita che è molto umana e condivisibile poi il fatto che comunque lui abbia una forza incredibile dei poteri eccezionali questo è nella logica del fumetto però quello che c'è sotto cioè l'essere umano si sente molto e è questo che mi piace di questo di quest'opera oltre al fatto che l'autore ha un modo personale di gestire la storia i personaggi cioè di shonen manga hanno tutti la grande caratteristica di essere azione combattimenti amicizia l'unione fa la forza cioè alcuni concetti di base ci sono un po' dappertutto però ogni shonen manga che ha avuto un grande successo riusciva a declinare questi elementi in un modo diverso con uno stile diverso certo e in questo caso l'autore ha il suo stile perché mi piace come gestisce i personaggi femminili mi piace appunto il fatto che ogni personaggio anche quello che ti sembra un po' secondario prima o poi viene approfondito e si rivela qualcosa di incredibile insomma riesce sempre a stupirmi e il tutto con uno stile grafico molto di impatto graffiante bello moderno di quelli più o meno dell'ultimo tra l'altro voi ne avete diversi in casa panini tipo censor man tipo spyper family sono questi nuovi successi shuesha che fondamentalmente stanno piacendo tantissimo ai ragazzi ma hanno quel tocco oppure un po' retro che può piacere o non piacere poi a seconda dei gusti anche spy for family per esempio ha delle caratteristiche formidabili perché l'autore riesce lo ha detto lo ha dichiarato anche lui in intervista non deve essere un manga drammatico spy for family è una commedia e lui dice sempre comunque a rimanere nei toni della commedia però anche facendo delle osservazioni sulla guerra sulla famiglia molto profonde ecco un po' di domande sì scusami che così ti lasciamo sono un po' di domande che secondo me sono molto molto utili perché questa riguarda un po' più la traduzione però secondo me puoi rispondere anche te qualche consiglio da dare ai ragazzi che vogliono intraprendere la strada del traduttore sono un ragazzo che studia lingua all'università e studia giapponese mi piacerebbe tanto fare il traduttore o comunque qualcosa di molto inerente ai manga beh sicuramente magari per fare il traduttore nel momento in cui si studia una certa lingua andrei a fare quello che mi avevano fatto fare a suo tempo all'università quando facevo linguistiche comparate prendere l'originale prendere la versione tradotta e compararle e vedere quali sono state le scelte del traduttore perché molte cose si imparano con l'esperienza per cui andando ad analizzare se si vuole per esempio tradurre manga andando a comparare la versione originale con quella tradotta in commercio vedere quali sono state le scelte e cercare di capire anche il perché di queste scelte poi con la massima gentilezza e discrezione magari si può andare a chiedere qualche consiglio a qualche traduttore però prima farei sicuramente questo esercizio perché all'epoca mi servì tantissimo nel mio caso quella volta lo feci con l'inglese mi servì tantissimo per capire certi problemi certe astuzie certe cose che e tra l'altro farlo con manga di tanti tipi diversi quindi Seid Shoujo Manga anche autori con stili diversi perché ogni opera ha le sue problematiche invece Stella fa una domanda che è molto interessante perché questa l'ho fatta anche viceversa a quelli che adattano gli anime quando si lavora all'editing alla traduzione di un manga del quale c'è già l'anime bisogna adattare la propria traduzione a quella dei sottotitoli italiani oppure del doppiaggio ci metterei prendendo proprio l'esempio Jujutsu Kaisen ho letto nel caso di Jujutsu Kaisen è uscito prima il manga però rispondo comunque alla domanda in generale nel caso di Twin Star Exorcist che edito sempre io era uscito prima l'anime però la nostra politica però innanzitutto a volte l'anime è un po' diverso dal manga proprio anche come atmosfera per esempio l'anime di Twin Star Exorcist è un po' più tono della commedia rispetto al manga che è più diciamo serio e drammatico anche lì sono scelte nel senso magari se c'è un termine parlo per me se c'è un termine che è rimasto molto negli orecchi degli appassionati che è la traduzione perfetta per quel vocabolo allora magari lo usiamo anche noi però la nostra politica è sempre tradurre quello che c'è scritto in giapponese cioè l'anime viene visto se c'è viene visto dopo perché il nostro lavoro è rendere al meglio quello che c'è scritto in giapponese gli anime possono avere delle diversità oppure magari possiamo renderci conto che preferiamo tradurre in un modo diverso dell'anime perché ci sembra più corretto così bisogna anche considerare che noi ci troviamo a che fare col manga e quindi magari rispetteranno l'opera originale poi diciamo la verità quindi noi dobbiamo restare fedeli a quello oltre al fatto che quando lavori sul manga secondo me tradurre senza all'inizio vedere l'anime è importante per fare il lavoro migliore possibile perché una volta che lo vedi l'anime quei termini ti rimangono nell'orecchio gioco forza e magari perdi la possibilità di essere obiettivo su una traduzione quindi sono scelte non ho una risposta precisa su questa domanda perché dipende purtroppo il mio lavoro è tutto un dipende però non ti rompono mai le scatole perché non è adattato come l'anime devo dire di no per fortuna perché significa che magari ho preso le scelte giuste mi è capitato sicuramente di avere magari confronti con lettori però non tanti più che altro magari sulle trasliterazioni dei nomi ma lì spesso non sono scelte nostre c'è stato però un manga che tu volevi proprio e ti hanno dato e sei stata felicissima che ti hanno dato che tu lo volevi cioè un'opera che magari già volevi da prima e che poi ti hanno dato e che sei stata felicissima di poterci lavorare c'era c'era giuzzo proprio l'ultimo proprio quello sì 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 poi ci sono stati ma in realtà spesso mi accade che penso mi piacerebbe fare questo e poi arriva quindi mi è successo tante volte per cui adesso guardo un attimo la mia libreria in cerca di ispirazione anche Spy for Family avrei voluto editarlo io e poi appunto è arrivato quindi anzi dico una cosa molto spesso quando sei molto appassionato di un'opera hai paura di editarla esatto immagino leggiti lingua originale oppure ne fai un'esperienza non da professionista non ti senti il peso della responsabilità di dover trovare i termini italiani definitivi esatto invece rispondo a Exart questa non è una domanda che dobbiamo fare a Elena ma più che mai a altri personaggi di Panini per la scelta dei manga Elena poverina anzi lei magari spera e lei è quella che arriva dopo quando hanno scelto un manga poi dopo gli danno io sono contenta di non dover partecipare a queste faide ora è diventato ancora più complicato anche quel lavoro lì sicuramente però effettivamente te da fan perché tu sei una fan di manga leggevi quando eri ragazza manga e appassionata e tutto il resto fare questo lavoro è stata sicuramente una bella esperienza no? e a maggior ragione ti senti carica di quello che fai immagino devo dire dopo tanti anni mi sembra di aver iniziato ieri per fortuna non nel senso dell'esperienza ma sono sempre contenta quando faccio questo lavoro perché proprio sento la presenza delle piccole teste dei lettori che prima o poi leggeranno il risultato definitivo e mi fa piacere fare il lavoro il migliore possibile è cambiato anche il modo di approcciare un po' tutto questo mestiere se sei qui non è un caso nel senso che ora c'è molte più possibilità di interagire con i lettori spiegare le proprie scelte secondo te è un bene o un male questo rispetto al passato in cui lavoravate più nell'ombra diciamo secondo me tutto quello che porta l'informazione in genere non è mai un male cioè tutto quello che porta la gente ad aumentare la propria conoscenza su come viene fatta qualcosa ha sempre un aspetto positivo ovviamente in tutto questo ci sono sempre anche degli aspetti negativi nel senso le critiche le osservazioni però è così che si cresce cioè alla fine è giusto che le persone sappiano come vengono realizzate le cose che amano e secondo me è più importante perché ora c'è questa bulimia assoluta di gente che vuole sempre nuovi titoli però ecco fare anche incontri del genere in cui racconti dietro le quinte fai capire anche che un manga non è che esce così automaticamente col traduttore automatico e arriva da voi in fumetteria è importante anche il lavoro che c'è dietro i romanzi le light novel quanto è faticoso e soprattutto tutta la mole di lavoro che voi avete e la linea editoriale che viene decisa anche in base a questo se non esce un titolo mensilmente è perché comunque su determinati titoli ci vuole un lavoro più accurato che è tutto bene per il lettore quando tu dici skate dance che uscivi a bimestrale e arrivava un lavoro migliore dovrebbe essere più contento il lettore che ha una qualità migliore di quello che è davanti no è che capisco che è difficile a volte non ti rendi come anche il lavoro del disegnatore a volte viene sottovalutato cioè si pensa i giapponesi per produrre un capitolo a settimana su shonen jump lavorano dei ritmi assurdi hanno un sacco di assistenti quindi questo mestiere a tutti i livelli è sempre un po' una corsa contro il tempo per cui insomma le persone mi fa piacere anche che capiscano che dietro c'è tanto lavoro per fornire il fumetto migliore possibile e viene fatto tutto sempre con tanto amore tutti i traduttori che conosco sono sempre anche degli appassionati tanto l'ultima domanda e poi ti lasciamo andare a lavorare giustamente a fare la mamma come è giusto che sia una prossima sfida che ti piacerebbe intraprendere tu sei sceneggiatrice fai un sacco di cose la prossima sfida è finire il mio romanzo che adesso sta diventando più fattibile grazie al nido finalmente per mia figlia e poi vorrei fare un libro illustrato per bambini perché ultimamente mi sto anche interessando la letteratura per l'infanzia come editor e adesso come autore mi piacerebbe ho in mente un personaggio da tantissimo tempo perché sono le storie che avrei voluto raccontare a mia figlia che continuavo a inventarmi e vorrei proporlo e questo è anche bello perché uno cresce anche con le esperienze di vita che sta facendo quindi praticamente te da mamma adesso giustamente ti senti pronta anche per questa nuova avventura sì e poi devo dire che la letteratura per l'infanzia ha un livello di semplicità e di complessità allo stesso tempo che mi attira molto cioè molto bella piacevole a volte anche rinfrescante rispetto ai testi per gli adulti quindi come autore e anche come editor è piacevole un'esperienza diversa ragazzi noi ringraziamo tutti siamo ormai 85 persone che ti hanno seguito e sono state tutte molto carine aspettiamo i nuovi volumi di Jujutsu Kaisen tutti i manga con cui stai lavorando mi sembra anche Spyper Family sei sempre te infatti adesso devo andare giusto giusto che stavo lavorando sul volume 5 ecco non ti facciamo perdere tempo però poi la gente accusa noi che non escono i mangi come dico io assolutamente grazie Elena e mi raccomando in bocca al lupo noi come sempre ti seguiremo perché noi ti seguiamo da tantissimo tempo e speriamo di averti nuovo ospite qui a parlare di altri titoli bellissimi che porti anche te su cui lavorerai altrettanto te grazie a te saluto tutti quanti quelli che mi hanno seguito che ci hanno seguito e niente vado a dare il massimo di Spy 4 Family 5 assolutamente ciao ragazzi io vi do appuntamento invece a venerdì e per quanto riguarda sempre Anime Click ora venerdì dove invece abbiamo Star Comics dove parleremo di Shoujo Manga perché qui non si finisce mai di parlare di manga Elena e oltretutto guardiamo H24 anche sulle nostre varie chat quindi grazie mille a tutti grazie Elena ciao ciao